La commissione di vigilanza che abbiamo fortemente voluto sul tema dei vaccini ha confermato tutti i nostri timori. Mancano all'appello 157.000 dosi per quanto riguarda i vaccini dell'influenza e non abbiamo avuto risposta circa il fatto se arriveranno e quando arriveranno, portando tutto ciò all'esasperazione migliaia di persone, gli operatori sanitari, le famiglie, gli anziani, la popolazione più fragile. Avremo un'altra commissione di vigilanza, la prossima, immediata, non solo per accertare queste responsabilità ma soprattutto per avere risposta se e come arriveremo a poter completare la campagna per le vaccinazioni e per l'influenza in questa regione. Di sicuro abbiamo accertato che c'è stato un grave problema di programmazione del fabbisogno. La regione si è mossa tardi e male. Il Dipartimento della Salute non ha compiuto, non ha fatto il suo dovere perché anche Cittadinanza Attiva ha segnalato che il caso limite in Italia è stato proprio quello della regione Abruzzo. I vaccini sono carenti ovviamente anche nel resto del paese ma noi siamo un caso limite perché ci siamo mossi per ultimo. Vogliamo accertare da un lato la responsabilità e vogliamo sapere se e come e quando vaccineremo la nostra comunità regionale. E lanciamo la sfida a conoscere da adesso il piano per la vaccinazione per il vaccino Covid. Non vogliamo gli stessi ritardi, non vogliamo la stessa negligenza che abbiamo dovuto purtroppo accertare, denunciare e registrare sul caso della vaccinazione per l'influenza. Grazie a tutti.